Cansiro nasce dalla volontà di fare un rifugio di montagna dove la gente possa condividere l'esperienza della montagna. Qui a Cansiro sono riuscito a fare la cucina che ho sempre desiderato, una cucina molto pulita, molto lineare e con grande tecnologia al suo interno. La volevamo comunque una cucina che fosse modulabile, che riuscisse a servire due ristoranti contemporaneamente e abbiamo trovato in Thermaline la soluzione ideale. La funzione che usiamo di più in cucina, soprattutto l'induzione in abbinato al forno a convenzione, perché quasi tutti i piatti vengono proprio fatti espressi e l'induzione è la formula che meglio ci si dice come tipologia di cottura. Ci dà anche la possibilità con dei piani in vetro di avere sempre una cucina pulita in ordine in ogni momento del servizio. I due ristoranti come filosofia, allora il Summit è proprio una cucina di sottrazione, nel senso che amiamo fare piatti con pochissimi ingredienti, dove però c'è una forte connotazione di gusto e una puntualità nelle cotture. Il grill più conviviale, proprio come format di ristorazione, che riprende un po' un discorso di rifugio di montagna, dove ci si condivide oltre che le avventure anche il cibo.